Sono Mariangela Romaniello, candidata alla Camera, il cui capolista è Gaetano Brindisi. Credo nella reale parità di genere, nella maggiore affermazione della donna nel mondo del lavoro, senza rinunciare ad essere una donna, una moglie o una madre. Una politica finalizzata all'eliminazione di tutti quegli ostacoli che la donna può incontrare, favorendo anche l'apertura di più asili nido. Il 4 marzo vota insieme. Grazie.